salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questa collana in vista dell'estate è una collana che si indossa dal collo e si può fare di tutte le dimensioni perché potete anche farla più piccola e inserire dei gancetti oppure questa arriva all'incirca al petto vi potete sbizzarrire con i colori e potete farle sia per voi per sfoggiarle in estate ma soprattutto anche per fare dei simpatici regalini prima di presentarvi materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tic toc e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace e lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò questo cordoncino per lavorare appunto la collana lo lavorerò con uncinetto numero 3 poi avrò bisogno delle perline che utilizzerò bianche e turchese un paio di forbici e un ago per inserire le perline dopo aver inserito il filo nel lago e assicurandoci che il lago passi attraverso il foro delle perline iniziamo a inserire le perline quindi io farò gruppetti da tre formate da perlina bianca turchese e bianca quindi riprendo col bianco turchese e bianco e continuo così fino ad inserire un totale di 90 perline per fare la misura della collana che ho appena fatto che arriva all'incirca al petto se voi la volete più piccola quindi più corte magari volete inserire un gancetto ne inserite di meno però tempo tenendo conto 3 per gruppetto quindi io in questo caso nella collana ho fatto 30 gruppetti quindi a tre perline per gruppetto fanno 90 perline se i gruppetti che volete fare sono ad esempio 25 dovete fare 25 per tre se invece sono di più perché magari la collana la volete indossare doppia ne inserite di più quindi inseriamo tutte le perline ci rivediamo per iniziare la lavorazione dopo aver inserito tutte le perline possiamo sfilare lago e prendere l'uncinetto e quindi iniziare la lavorazione prima di iniziare io vi consiglio di far camminare un pochino le perline quanto avete un pochino più spazio col filo iniziamo facendo un cappietto che stringiamo e non lo contiamo lavoriamo una catenella e iniziamo direttamente con il punto strega quindi allarghiamo la solina teniamo col il dito prendiamo il filo lo facciamo passare rientriamo qui dove abbiamo tenuto prendiamo il filo e ci chiudiamo con maglia bassa stringiamo un pochino ecco il nodino che si è creato e abbiamo fatto un punto strega continuiamo lavorando 3 catenelle filo sull'uncinetto entriamo nel punto quindi nella chiusura del punto strega entriamo in questo punto prendiamo il filo e facciamo una maglia alta non chiusa alla fine quindi facciamo passare il filo solo nelle due soline di nuovo filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso punto facciamo passare il filo nelle prime due soline e lasciamo l'ultima chiusura di nuovo lo facciamo questo per tre volte quindi facciamo passare il filo nelle prime due abbiamo quattro soline sull'uncinetto cosa facciamo avviciniamo le prime tre perline li avviciniamo così prendiamo il filo nella dalla parte sotto guardate così lo prendiamo e chiudiamo le tutte le asoline inserendo le perline una catenella per bloccare il tutto e abbiamo fatto i due punti che poi ripeteremo in tutta la lavorazione ora dobbiamo fare il punto strega quindi continuiamo facendo la solina del punto strega stringiamo un pochino il nodino dopodiché faremo le 3 catenelle e ripeteremo quello che abbiamo appena fatto con l'inserimento delle perline prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo in questo nodino e facciamo una maglia alta non chiusa di nuovo una maglia alta non chiusa e di nuovo una maglia alta non chiusa abbiamo sempre le nostre quattro soline sull'uncinetto avviciniamo le tre perline così le avviciniamo prendiamo il filo nella parte sotto in questo modo e lo facciamo passare in tutte le asoline e chiudiamo una catenella e stringiamo il lavoro ora dobbiamo fare il punto strega quindi dobbiamo fare questi due punti punto strega e questo gruppetto con l'inserimento delle perline per tutto per tutta la lunghezza quindi fino a quando abbiamo inserito tutte le perline facciamolo un altro insieme quindi 3 catenelle entriamo nella nel nodino di chiusura del punto strega e facciamo le nostre tre maglie alte non chiuse due e tre avviciniamo tre perline voi potete utilizzare i cristalli potete utilizzare anche delle collanine che magari avete non utilizzate e prendere le perline dalle collane quindi anche di diversi spessori di diversi colori facciamo passare il filo avviciniamo le perline prendiamo il filo lo facciamo passare nella parte sotto chiudiamo con una catenella e facciamo il punto strega punto strega ve lo potete regolare voi se farlo più grande o farlo più piccolino perché in base a vostro piacimento comunque in base ai vostri gusti così continuiamo e ci rivediamo dopo l'inserimento di tutte le nostre perline inserito l'ultimo gruppetto guardate la lavorazione dobbiamo abbiamo iniziato con il punto strega e dobbiamo finire con il gruppetto quindi arrivati a questo punto riprendiamo abbiamo fatto la catenella entriamo nel punto iniziale quindi nella catenella iniziale qui e ci chiudiamo con maglia bassissima facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo e stringiamo forte ora prendiamo le due codine iniziale e finale e facciamo un doppio nodo quindi lo sigilliamo per bene e possiamo tagliarli possiamo eventualmente con l'accendino e bruciare le estremità per sigillare da eventuali ecco così non si sfilano perfetto ecco qui il risultato finale guardate comunque che è molto elastica quindi per questo motivo in ogni caso se la volete fare anche più piccola entra facilmente anche più piccolina dalla testa l'effetto che si crea questo infatti uguale all'altro guardate possono variare le perline il colore comunque da un effetto veramente carino perché formato da questo punto strega e da questo gruppetto che racchiude le nostre perline io spero che il video vi sia piaciuto se così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video ciao